Lettura, Vangelo e Commento Dal libro del profeta Ezechiele Mi fu rivolta questa parola del Signore. Perché andate ripetendo questo proverbio sulla terra di Israele? I padri hanno mangiato uva acerba e i denti dei figli si sono allegati? Come è vero che io vivo, oracolo del Signore Dio? Voi non ripeterete più questo proverbio in Israele. Ecco, tutte le vite sono mie, la vita del padre e quella del figlio è mia. Chi pecca morirà. Se uno è giusto e osserva il diritto e la giustizia, se non mangia sui monti e non alza gli occhi agli idoli della casa di Israele, se non disonora la moglie del suo prossimo e non si accosta a una donna durante il suo stato di impurità, se non opprime alcuno, restituisce il pegno al debitore, non commette rapina, divide il pane con l'affamato e copre di vesti chi è nudo, se non presta usura e non esige interesse, desiste dall'iniquità e pronuncia retto giudizio fra un uomo e un altro, se esegue le mie leggi e osserva le mie norme agendo con fedeltà, egli è giusto ed egli vivrà, oracolo del Signore Dio. Ma se uno ha generato un figlio violento e sanguinario che commette azioni inique, questo figlio non vivrà, poiché ha commesso azioni abominevoli, costui morirà e dovrà a se stesso la propria morte. Perciò io giudicherò ognuno di voi secondo la sua condotta, o casa di Israele, oracolo del Signore Dio. Convertitevi ed esistete da tutte le vostre iniquità e l'iniquità non sarà più causa della vostra rovina. Liberatevi da tutte le iniquità commesse e formatevi un cuore nuovo e uno spirito nuovo, perché volete morire, o casa di Israele. Io non godo della morte di chi muore, oracolo del Signore Dio. Convertitevi e vivrete. Dal Vangelo secondo Matteo In quel tempo furono portati a Gesù dei bambini perché imponesse loro le mani e pregasse, ma i discepoli li rimproverarono. Gesù però disse «Lasciateli, non impedite che i bambini vengano a me, a chi è come loro, infatti appartiene in Regno dei Cieli, e, dopo aver imposto loro le mani, andò via di là». Parola del Signore Lode a te, o Cristo Commento al Vangelo Ciao a tutti e ben ritrovati questo sabato su Via della Fede per cercare di approfondire questi passi del Vangelo che oggi ci parlano di bambini, ci parlano dei nostri figli. Dunque facciamo gli auguri a tutti coloro che si chiamano Beatrice perché è la ricorrenza di Santa Beatrice De Silva, una santa che davvero nella sua vita ebbe, diciamo così, la fortuna di vedere realizzati molti miracoli. Ho fatto anche un video interessante su questa cosa dove alla fine sostanzialmente questa santa ci fa vedere proprio il percorso e la forza con cui affrontare la vita per attraversare la via stretta. Dunque ci possa aiutare nel comprendere meglio questi passi del Vangelo. Cominciamo subito con il segno della croce invocando lo Spirito del Padre Nostro che è nei Cieli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Vieni o Paracrito donaci la tua intelligenza donaci un raggio della tua luce per comprendere questi passi del Vangelo che ci avvicinano sempre di più al nostro Padre Celeste. Padre, donaci anche oggi il tuo amore perché siamo davvero molto bisognosi. Quest'oggi dunque il Vangelo parla di qualcosa che abbiamo davvero molto a cuore che sono i bambini, sono i nostri figli dunque sono il nostro futuro. Comincia proprio dicendo così In quel tempo furono portati a Gesù dei bambini perché imponesse le mani e pregasse. Ecco, ci dobbiamo chiedere ora in questa semplice frase chi è che porta i bambini? E quando portiamo questi bambini per che cosa li stiamo portando? Dunque, riusciamo a comprendere come il Vangelo ci indica qualcosa da fare cioè portare questi nostri bambini a Gesù e dice perché portarli? Perché possa imporre loro le mani e pregare su di loro. È una cosa interessante perché quando focalizziamo la stessa cosa sui grandi noi ci aspettiamo un sermone ci aspettiamo un miracolo ci aspettiamo nell'incontro con Gesù qualcosa di strabiliante mentre il bambino non è come noi cioè il bambino è davvero qualcosa di molto semplice dunque non c'è nemmeno bisogno di parlare perché diciamo sono già molto vicini a Dio i bambini quindi basta imporre le mani e davvero il bambino è in grado di camminare per quella via stretta dunque però i genitori hanno delle responsabilità che portano a delle conseguenze è importante direi fondamentale questo aspetto cercare di vedere il ruolo dei genitori io sto portando i miei figli a Gesù e quando si tratta di figli non si tratta soltanto di un'azione nella carne perché a volte il Signore anche a coloro che materialmente non hanno avuto dei figli gliene dà ugualmente altri che possono essere guidati in maniera davvero semplicemente prendendosi per mano a Gesù l'uomo però fa molta fatica ed è molto restio in questo perché ci sono delle responsabilità perché in fondo il destino di un bambino è già delineato nel momento in cui nasce perché ha quei genitori dunque sappiamo già che fine farà questo bambino se il padre è non lo so faccio un esempio mafioso questo diventerà mafioso se invece è un santo diventerà santo e la prima lettura di oggi ci dice qualcosa che fa infuriare sufficientemente Dio lo fa infuriare perché dice i padri hanno mangiato l'uva acerba e i denti dei figli si sono allegati che vuol dire questa esperienza questa frase che parla di un vissuto cioè del padre che mangia l'uva acerba sostanzialmente è qualcosa che non dovresti mangiare perché devi aspettare che sia matura quindi fai delle cose sbagliate nella tua vita fai dei peccati sbagliati e i denti dei figli si sono allegati si sono come gli allegati quando vengono messi insieme no? ora se voi pensate ai denti messi insieme vi viene in mente una fila di denti ma provate a pensare alle due fila di denti messi insieme beh non c'è più la possibilità di aprire la bocca non c'è più la possibilità di potersi nutrire dunque quel figlio muore quel bambino muore ma non è colpa sua ecco dunque che nel Vangelo di oggi dice dopo dice così il Vangelo di oggi ma i discepoli li rimproveravano no? perché i discepoli rimproverano coloro che portano i bambini a Gesù? perché questi bambini danno fastidio in un certo modo no? disturbano l'attenzione di quello che è grande perché in un certo senso il destino di questi bambini è già scritto predestinato ma vediamo come non è così perché la risposta del Signore a questo è molto molto forte nella prima lettura dove dice in maniera molto chiara che se qualcuno segue i suoi comandamenti se qualcuno non disubbidisce se il cuore è propenso a Dio questo vivrà ma se lui deciderà di volgere il suo cuore al male allora lui non vivrà morirà ma morirà per le sue colpe per la sua scelta questo che vuol dire vuol dire che i peccati dei padri ricadono sui figli ma questo ricadere sul figlio non non è alla morte non provoca la morte del figlio dunque in queste due frasi c'è un mondo che possiamo che possiamo aprire un qualcosa che ci potrebbe far comprendere come noi ci dobbiamo rapportare con i nostri figli qual è il ruolo genitoriale di una mamma o di un papà dunque Gesù dice loro questo ci deve far capire quanto è diversa la visione degli uomini da quella di Dio dice non impedite che i bambini vengano a me a chi è come loro infatti appartiene il regno dei cieli allora dobbiamo questa frase in questa frase c'è la salvezza dunque è incredibile come il Signore riesce a sintetizzare dei concetti che per esprimerli ci vogliono davvero ore ore e ore e anche quando abbiamo fatto questo non riusciamo a capire ora diciamo così perché il Signore dice non impedite ai bambini che vengano a me dice chi è chi è come loro a chi è come loro appartiene il regno dei cieli dunque ci svela il segreto del paradiso cioè un bambino ha quel segreto del paradiso cioè un bambino ha un cuore che è pronto all'ascolto ha delle braccia che sono sempre pronte ad abbracciare il bambino non riesce tanto a comprendere le parole ma guarda l'esempio ecco perché Gesù impone le mani quando prosegue il Vangelo non dice pregò su di loro ma impose loro le mani dice e dopo aver imposto loro le mani andò via non dice che impose le mani pregò ci parlò allora questo imporre le mani cosa vuol dire per noi ecco è un gesto di grande misericordia ma è per noi un esempio ora il bambino guarda l'esempio che dà il genitore più che ciò che il genitore dice al bambino o al ragazzo ecco perché c'è una responsabilità fondamentale di noi genitori quando cerchiamo di crescere i nostri figli ma chi sono questi bambini che poi vanno nel regno dei cieli i bambini sono quei piccoli che sono sempre disposti a stare lì e ad ascoltare ti ascoltano anche quando non comprendono anche quando non riescono a capire ciò che tu dici ma hanno un cuore che sta lì sta in quella situazione vive quella condizione la differenza di noi adulti spesso in questo è che nel momento in cui ci viene a presentarsi una situazione un po' complicata noi scappiamo noi fuggiamo diciamo di essere per Cristo con Cristo in Cristo poi nel momento in cui bisogna amare perché l'ascolto è una delle prime parole che ci dice nostro Signore nei comandamenti e quando ce lo dice verso il prossimo ci sta dicendo di amare il prossimo di cercare di immedesimarsi nel prossimo il bambino lo fa sempre anche quando non lo capisce ecco dunque che in quella umiltà di dire va bene sto qua anche se quella situazione io non l'ho vissuta perché magari quel tipo di malattia non l'ho mai avuta ti ascolto ti ascolto metto il cuore in gioco poi il Signore farà la sua parte dunque dobbiamo noi diventare come i bambini per cercare di guadagnarci eh tra virgolette dico guadagnarci perché eh cerco di essere incoraggiante per tutti i fratelli e le sorelle me compreso perché in fondo su il 99,9 del del lavoro che fa nostro Signore noi ne facciamo magari uno 0,01 ma è un sì questo sì vale questo sì conta eh conta il sangue di Cristo dunque davvero nostro Signore ci ha amato fino a dare la sua vita per noi dunque non che io mi debba svalutare più di quello che realmente io sia polvere eh ma cercare di comprendere che questa polvere se sostenuta dalla grazia di Dio beh diventa un po' come il roveto ardente no questo questo roveto che è fiammeggiante e che continua a ardere ma che non si consuma continua a bruciare ma non si consuma dunque questo è la visione che noi dobbiamo avere dei bambini da un lato cercare di guardare eh quella semplicità dall'altro vedere quella potenza perché è proprio Dio stesso che che li abita in questo dunque davvero cerchiamo di eh eh così mh comprendere queste parole del del Signore eh e quando intendo queste parole del Signore intendo dire impose le mani cioè un'azione che il Signore fa e che è già in se stessa sufficiente mentre per noi che siamo molto più poveri per spiegare quella stessa situazione il Signore spende davvero tantissime parole perché è un'opera davvero non dico di convincimento ma davvero da scalpellino contro il granito eh quindi difficile perché abbiamo le nostre convinzioni abbiamo le nostre idee dunque per noi i bambini diventano più un fastidio che che altro bene io direi che eh farò qualcosa relativamente proprio a questa condizione familiare e poi alla spiritualità eh perché questo argomento va un pochino sviscerato eh poi c'era anche eh Veronica che mi chiedeva eh di approfondire ancora di più questo aspetto quindi cercherò di eh sviscerarlo meglio perché eh spesso oggi c'è una grande confusione anche nella genitorialità eh chi è il padre chi è la madre e da un punto di vista spirituale che che cosa posso dare io a mio figlio e e chi può dare qualcosa a me quindi eh questo brano si adatta si adatta molto bene ma poiché sarebbe davvero molto lungo cercare di eh sviscerare tutti questi elementi ne comprendiamo e approfondiamo per oggi così queste parole del Vangelo grazie a voi tutti di essere stati qui con me io eh vi chiedo se potete di ricordarvi di me nelle vostre preghiere e della mia famiglia e se potete mettete un pollicione in su perché fa davvero caldo e quindi mi incoraggiate anche a fare questi video davvero e e poi la fede viene dall'ascolto della parola di Dio così ognuno può fare davvero la sua parte ciao a tutti e ci vediamo domani ciao a tutti Grazie a tutti.